Musica Mercoledì 9 maggio ben ritrovati con il TGL News, sono in corso di accertamenti da parte dei carabinieri di Piacenza sulla morte di un cane emeticcio, testimoni sostengono infatti di aver visto un uomo che passeggiava con il cagnolino nell'area di sgambamento di via Penitenti quando all'improvviso avrebbe preso a calci l'amico a quattro zampe che è rimasto a terra, il cane è stato poi portato dallo stesso proprietario in una clinica veterinaria dove però è stato constatato il decesso dell'animale, l'uomo ha quindi dichiarato che il meticcio probabilmente aveva inghiottito bocconi avvelenati due versioni contrastanti sulle quali sarà l'autopsia a far luce se venisse accertata, infine la violenza, il proprietario rischia la reclusione da quattro mesi a due anni Facciamo governare quei due riferendosi a Salvini e Di Maio, l'ha detta questa mattina Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, ospite della convention organizzata dall'Università Cattolica e rivolta agli studenti del corso di food marketing Ci sono rischi grossi per il paese, ha spiegato Confalonieri, non è il caso di andare ad ulteriori elezioni Stamattina il convegno hanno preso parte anche i top manager e le imprenditori delle più importanti aziende industriali e commerciali italiane Gli studenti della laurea magistrale in food marketing hanno poi avuto la possibilità di elaborare progetti con le più importanti multinazionali da Ferrero a S. Lunga, da Conad a Bonduelle sono saliti in cattedra per rappresentare i risultati del proprio lavoro Proseguiamo parlando del brusco stop all'annuale raduno nazionale di preghiera dei sinti che si doveva svolgere nel piazzale di Piacenza Expo La Lega sarebbe contraria e così a pochi giorni dalla data di inizio prefissata il 15 maggio esplode la rabbia nella comunità proprio contro l'amministrazione comunale Il raduno evento che richiamerebbe in città fino a un migliaio di persone sarebbe in programma dal 15 al 29 maggio ma risulta al momento congelato Aggiornamenti sono previsti nei prossimi giorni Chiudiamo con la cronaca Si è infilato 5 bottiglie di whisky nello zaino e alle casse di un supermercato di Piacenza ha pagato solamente due bevande per pochi euro Prontamente bloccato da un addetto alla sicurezza che aveva già chiamato i carabinieri il 32enne marocchino senza fissa dimora in questione è stato poi arrestato L'uomo aveva una sfilza di precedenti penali e condanne per furti in varie città del nostro paese Per questa edizione è tutto, il TGL News torna più tardi